Ho la sfortuna e come sto? Ammaccato. Per domani cosa dice il primo arrivo sullo stellato? Non lo so, vediamo, perché per ora il giro è stato un po' una sofferenza e abbiamo un Ciccone che è sicuro che sta benissimo, quindi anche oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per tenerlo davanti nelle prime posizioni, quindi domani è una tappa dura e importante e bisogna essere pronti. Scusa Vincenzo, una parola. Allora, come giudichi la giornata di oggi e il giro finalista per la tua squadra? Per te e per il Ciccone? Per la squadra sta andando bene, è chiaro che per me il giro era già iniziato in salita e oggi un po' mi sono successi tutti i colori. ho bucato in una prima parte di corso, ho cambiato bici e in un paese penso, mi ricordo cosa era, sono scivolato in curva, proprio la bici è andata via di piatto. Si è andato male? Un po' di scuritazione, purtroppo quando deve andare così, deve andare così, non si può fare niente. E per la squadra come vedi la situazione? No, per la squadra sicuramente siamo vestiti abbastanza bene, Ciccone ha dimostrato di avere una bella gamba, una bella condizione, quindi andiamo avanti così. Grazie. Grazie.